Addio John Brown, dopo aver già perso Adrian Banks, l'epicasa Brindisi rischia di perdere anche l'altro simbolo del corso spettacolare di questi ultimi due anni, targati Vitucci Gioffre. Se già da tempo erano in corso le trattative per convincere Brown a restare in Puglia, che un anno fa furono lunghe ma produttive, adesso c'è il rifiuto del giocatore americano all'ultima proposta arrivata da Brindisi, che difficilmente a questo punto alzera ancora la posta in palio. Vitucci dovrà rassegnarsi a perdere un altro giocatore importante dell'ultimo corso, ma Gioffre è già sul mercato per cercare di rimpiazzarlo al meglio. Sembra più vicino, infatti, Mattia Udom, che potrebbe completare il reparto degli italiani in arrivo da Verona, in attesa che ci sia anche la firma di Riccardo Visconti, con cui l'accordo è stato trovato ormai da qualche settimana. Per uno che va via, John Brown, Brindisi prova a chiudere con altri due, in attesa di tornare a guardarsi nuovamente attorno sul mercato degli stranieri.